Diamo il benvenuto alla coppia di pastori tedeschi, poi la coppia di spinoni italiani roano marrone, e concludiamo la coppia di levrieri afghani, i gruppi di allevamento si possono preparare nel pre-ring un giro di ring per tutte le coppie, tre coppie, tre gradini sul podio aspettiamo di conoscere la scelta di Pietro Paolo Condò terzo posto per la coppia di levrieri afghani secondo posto per la coppia di pastori tedeschi e vince la coppia di spinoni italiani roano marrone iniziamo iniziamo Grazie a tutti. Grazie a tutti.